20 anni di prigione nel migliore dei casi e ergastolo nel peggiore. Comincia con queste premesse il processo a Bradley Manning, il soldato accusato di essere la talpa di Wikileaks. Dietro le porte chiuse della corte marziale di Fort Meade nel Maryland, il 25enne si è dichiarato colpevole di 10 dei 24 capi di imputazione contestati, ma non del più grave, quello di collusione con il nemico. Il procuratore, Joe Morrow, cercherà di provare che almeno uno dei 700.000 documenti da lui trafogati sono finiti in mano ad Al-Qaeda. Di tutt'altro avviso i manifestanti fuori dall'edificio per i quali Manning è un eroe del pacifismo e della trasparenza. Credo che Bradley Manning abbia fatto più di chiunque altro per fermare la guerra in Iraq, rivelando il massacro di bambini, giornalisti e civili compiuto dagli elicotteri che ha scioccato le coscienze del mondo intero. Credo che abbia fatto la cosa giusta, ha fatto quello che doveva fare, denunciare crimini di guerra. Una nuova tegola sulla testa della Casa Bianca, già alle prese con le accuse di aver usato l'agenzia delle entrate contro i Tea Party e il presunto spionaggio ai danni dell'Associated Press. Bradley Manning rischia il carceravita senza possibilità di libertà condizionata, spiega il corrispondente di Euronews, Stefan Grobe. Ma il governo rischia un enorme colpo di credibilità. Insieme con i recenti scandali a Washington, la corte marziale di Manning ha il potenziale per indebolire ulteriormente la fiducia nel governo Obama.